Gigi ragazzi e bentornati sul canale di The Game Show Oggi dobbiamo soddisfare la richiesta di una nostra iscritta Ragazzi, non è facile, non so come dirvelo, però bisogna farlo Dobbiamo giocare tutta la partita in ballcam e in retro Io non so cosa... Eeeh... 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 Eeeh ... I mean, mazza tanta Ma i vedo dura Ma ebbè La vedo dura Io non la vedo proprio Non è che la vedo dura Io proprio non la vedo Perché so già come va a finire Eeeh... 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 E' una questione impossibile Una mission impossible Ragazzi, miei cari Mazza Tanta Questa volta Aspetta Aspetta, eh Che appoggio questo Perché devo fare una cosa importante Questa volta il mazzo Tanto ce lo fanno gli altri Per quello che noi dovremmo fare Vabbè Ragazzi Oh dica dica Se questo vi Cioè aspetta Se vinciamo la partita Sì Deve raggiungere 30 like Ma quale vinci la partita Se la vinciamo deve raggiungere Ma almeno 190 Ma non la vincerai mai questa partita Vabbè Ma dai Ascoltate Intanto è che noi studiamo le nostre tattiche Voi da casa E voi grandissimi iscritti Che poi voglio ringraziare Perché Cos'è stato Più o meno neanche un mesetto fa Avevamo 57 iscritti Oggi abbiamo superato i 600 Anzi mi sa i 650 iscritti Per cui ragazzi Grazie davvero Di cuore A tutti Però Riprendiamo il punto della situazione Mentre noi studiamo Le nostre tattiche Voi Gustatevi la Sigla Eccoci Allora Dopo aver studiato un po' Di che morte Dobbiamo morire Noi siamo pronti Io invito il caro Davide Che è il leader oggi Di fare un 3v3 E vediamo Subito Subito Cosa si combina Forza Allora ragazzi Mi raccomando Ball cam E retro Ma dai Ma è una cosa impossibile Ma solo i mazzatanta Fanno queste cose Dai Solo i mazzatanta Per quello Iscrivetevi al canale Eh Appunto Per quello vi do di iscrivervi al canale Dai Pure team Pure team C'è finita No 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 Si chiamano bananas Infatti ci fanno il mazzotanto Con i bananas Eh vedi che si trova Allora La respinta si fa dritta Eh perché È impossibile Se no E poi via Tutti girati Col culo Andiamo Andiamo Ok Ball cam E via di retro Come si fa qua Com'è Usteria Oh Così Ah non possiamo ancora accelerare È impossibile È impossibile Cos'è Non posso accelerare Aspetta Occhio Uh l'ho presa L'ho parata in retro Incredibile No ma accelerare Ma no ma Ma Dai Non lo so come si fa Dai Cos'è È tipo Il gioco al contrario Ma è al contrario Anche i comandi qua sono al contrario Ma che bordello Che bordello Dai corri No 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 Siamo già Eh vabbè ma è normale Ma io penso Ragazzi Dai siamo Siamo realisti Siamo realisti Qua non bisogna Vedere il risultato Perché è una cosa Impossibile Ma sì Eh bisogna divertirsi Dai d'altronde È stata una richiesta E beh comunque Ci rimane Come esperienza E come un ottimo allenamento Allora anch'io Via retro Com'è Via 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 Vi importa Ma perché prendo il turbo Se so Ma come fai a prendere il turbo Io non vedo proprio nulla Com'è Com'è Dai dai Io sono incastrato in porta Aspetta Dai No Ma io Appunto Ma io non posso neanche volare Occhio arrivano 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 No No 2-0 No È impossibile Ma che cosa ci fate fare Ma che cosa ci fate fare Ma come siete i monelli Però Dai Ma qua Facciamo Ragazzi È impossibile Facciamo una figuraccia Di quelle Assurde Allora Qua mi devo girare Via retro Via Ma perché Aspetta Ma qui Ecco Io glielo ho rispinta Com'è No no Ma Ma dai Non capisco nulla Ma Ma cos'è Ma Vabbè Qua è dura Perché qua Io prevedo un 20 a 0 Assolutamente Eh però ragazzi Eh 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 Bisogna Mandarla giù Via Respinta Respinta E vabbè Retro Retro Ebbè sì No 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 Cos'è Com'è Come faccio qua Oh Come Ma dai Oh Ma Beh Beh Dai dai Via 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 E io non posso toccarla col muso È impossibile Eh beh Direi proprio di sì Però Eh ragazzi Ormai è così Dai Dobbiamo tenere Niente 30 like Dobbiamo recuperare Ale Dai Dobbiamo recuperare il 4 a 0 Forza Dai Sulla respinta Andate Andate Aspetta Aspetta È che Via Dai 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 Uh No No dai Ma cosa Ma cosa Ruzzi Aspetta Che Eh Vabbè Eh Vabbè Eh Vabbè Zero punti C'ho io Vabbè Solo tu Fammi tutti abbiamo zero Anzi Io 22 punti No Tu 22 Adesso Allora Chissà cosa pensano di noi Questi cari ragazzi Meglio Meglio non scoprirlo No Volcan Eh Via Guarda Guarda Ho provato addirittura un tiro Corri Corri Verso la porta Corri Ma Perché si gira al contrario Ma che bordello Ma cos'è Ma che bordello è Cioè È una cosa Pietosa È una cosa Pietosa Vabbè Guarda Meglio farlo adesso Perché così almeno ci rimane fatto E non dobbiamo più rifarlo Dai Via Ma Andiamo 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 No Non l'ho presa Aspetta 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 No Occhio Occhio No Guarda Guarda Io che stavo facendo Aspetta Aspetta Aiuto Occhio Occhio Niente Niente Aspetta No Era bella Era bella Cioè Facevo Dai Intanto Ho invitato Allora Appunto A guardare Il video Sul Sul nostro Canale E via Andiamo 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 Aspetta Uh L'ho presa L'ho deviata L'ho deviata Occhio Dai 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 Uh Bella Dai 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 No 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 E vabbè E vabbè Io intanto Mando i messaggi a loro Perché se no Effettivamente Ci cambiano Per dei pazzi Vai 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 Aspetta Eh Vabbè Qua Andiamo Andiamo Opla Sono sul tetto Di un grattacielo Io Aspetta Oh Via Bella Bella Tony Bravo The game Guarda No Non riesco a uscire Dalla porta Un po' Abbiamo Abbiamo Il nostro Ale Incastrato In porta Non riesco a uscire Dai Ale No Oh L'ho tolta L'ho tolta Non ci credo No 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 Che sfiga 10 a 0 Che sfiga Vabbè 10 a 0 Ma io Onestamente parlando Pensavo peggio Pensavo molto peggio Perché prendi tre deficienti che ti giocano in retro Ne devi fare almeno 20 Dai 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 Ma non ho preso ancora una palla Dai Sì Uno sì Forza Dai Dai Forza Bella raga Bella Ho sbagliato Aspetta Ok arrivano 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 ancora Arrivano ancora Ma Ma come Come faccio a volare in retro È una cosa impossibile Aspetta No ma Brava Tira il freno a mano Arrivano Arrivano No 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 Vabbè Era lì che barcollava Da 10 anni Sta palla È normale Che Segnavano Vabbè 18 secondi Dai Il danno Non è poi così Eclatante Dai No vabbè 11 a 0 Davide In retro È Buono Vai No facciamo l'11 a 1 E Vabbè Ora prendete il muro Andiamo Andiamo Dai dai L'hanno anche allungata Dai che magari finisce anche Anche così No Dai 4 secondi Dai Non subiamone più Non è facile E vabbè E vabbè 12 a 0 E va bene Raga E Io pensavo Io pensavo 20 a 0 E Io ve lo dico E' un 90 Un 90 No io All'inizio ho detto almeno 20 a 0 Perché Come fai a giocare Invece Qualcosina abbiamo preso Allora vediamo un attimino Allora Ok Hanno vinto i bananas Vabbè Team In retro Figurati Per cui è andata anche bene 4 punti Anzi ringraziamo i bananas Per averci Insomma Ospitato Sì Ci hanno dato questa possibilità Hanno giocato con noi Questa partita Per loro E beh Grazie al cavolo Semplicissima Caso strano Anche divertente Però beh Ascolta Io ho fatto 78 punti 15 punti Alessio E 4 Davide Raga Il retro Vabbè ci sta come Ebbè Ci sta Direi Direi di sì Per cui Alessio Qua i like Onestamente parlando Dovremmo farli Per qualcos'altro Non lo so Per cui Se superiamo Quali like Cosa succederà 1500 like Eh sì Vabbè Il nostro Davide Sempre spiritoso Niente No Cosa Potremmo dire Per gli like Cosa 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 succede Un'altra sfida Che scrivete Nei commenti Allora Ah ok Ok Allora Diamo La possibilità Aspetta Intanto usciamo da qui Non posso giocare Una partita Mentre parlo Con I nostri iscritti Facciamo così Se noi superiamo I 40 like Su questo video Diamo A voi La libera scelta Di inventare Una sfida Per noi Va bene Raga Esatto Benissimo Benissimo 40 like Scrivetelo Nei commenti La sfida Che voi Che voi Vorreste vedere E in mazza Sono qui Disponibili Ragazzi Detto questo Alessio Io ti ringrazio Davide Grazie a voi Grazie a te carissimo Davide ringraziamo Anche te Pollice Grazie a voi Pollice in alto Iscrivetevi al canale GG ragazzi Su Rocket League Sempre GG GG E ciao